Giovedì alle 21 c'è una bella occasione alla Dialma Ruggero per ascoltare la canzone napoletana dal 1200 ai giorni nostri. Sì, abbiamo un concerto che abbiamo organizzato presso l'auditorium Dialma Ruggero di La Spezia con un'associazione di Levanto che si chiama Mare Suoni, di un gruppo che è attivo dal 2009 e proponiamo musica che va dall'epoca popolare, dal 1200 fino a toccare i grandi autori dei giorni nostri ma passando anche da Carosone a Modugno, quindi c'è una bella occasione, una bella festa per riscoprire quella che è la musica napoletana che è l'origine della musica poi italiana, almeno quella popolare, musica pop eccetera. Quindi un gruppo il vostro che ha anche un'esperienza importante nel settore e poi la valorizzazione di un fine come quello di sostenere questa associazione culturale Mare Suoni di Levanto che forse dà ancora più importanza questa serata. Sì, per un paese come Levanto è una grande occasione che diamo ai ragazzi, ai giovani per avvicinarsi allo studio dello strumento e quindi siamo anche attivi nella collaborazione con le scuole e facciamo tante attività legate proprio al mondo della cultura musicale rivolta soprattutto ai ragazzi.